Contrastare con la cultura dello sport ogni forma di violenza e discriminazione. Questo l'obiettivo primario della manifestazione La Legalità Vince Sempre, che si svolgerà domani nel Centro Sportivo Bonagia. Il calcio femminile e la Ludo Spalermo si fanno carico di testimonial della giornata e nel frattempo chiedono un aiuto per continuare a dar l'infa al sogno sportivo originale, quello di poter continuare ad alti livelli e perché no un giorno raggiungere quello delle altre nazioni. A seguito di un'iniziativa che abbiamo lanciato noi, che siamo scesi in piazza, abbiamo gridato ad alta voce sostieni la Ludos, perché questa realtà non debba rischiare di chiudere, non debba smettere dopo 25 anni di onorati campionati a livello nazionale, quindi di avere tenuto in alto il nome della città di Palermo. Siamo scesi in piazza e ci ha dato subito seguito l'associazione football e club antimafia. A livello Italia sicuramente per quello che fanno le società ci sono comunque delle differenze già tra regioni del nord e regioni del sud. Quello che sta cercando di fare la federazione, ma penso che siamo nella fase che mentre prima non se ne parlava adesso se ne parla, però ancora nel mettere in atto secondo me ci vuole un po' del tempo e di far crescere questo calcio femminile, di distanziare dei contributi affinché possa esplodere e quindi gareggiare o comunque confrontarsi con le ormai già avanzate rispetto a noi società del nord. Questa Italia ha bisogno dell'egalità e dello sport, perché è grazie allo sport che sicuramente l'Italia può uscire anche dalla crisi. Lo sport ti porta a conoscere mondi nuovi, fare nuove amicizie, iniziare a studiare anche in altri paesi, sia il paese italiano che in paesi esteri. Penso siano stati fatti degli errori e spero che in questo momento il Presidente del Consiglio Renzi si renda conto veramente in che posizione stiamo e che non è un'ottima posizione purtroppo. Grazie a tutti.